La migliore protezione per la riserva? È la riserva, lo strumento più efficace per attutelare il patrimonio boschivo e l'incolumità dei cittadini. A confutare alcune affermazioni circolate nei giorni successivi ai roghi nella pineta d'Annunziana è il coordinamento Salviamo gli Alberi, insieme di associazioni che domani alle 18 sarà in presidio davanti all'ingresso di via Scarfoglio. Questo è un malvezzo assolutamente criticabile, cioè chi ha le responsabilità istituzionali accusa quelli che segnalano il problema, come se segnalare il problema fosse la causa. La miglior difesa della pineta d'Annunziana è istituire una sua direzione, fare la vigilanza, finalmente fare un sistema di protezione idrica che manca assolutamente, guardare intorno alla pineta l'area di rispetto e poi fare la manutenzione. Non è detto affatto che una riserva non possa essere manutenuta. Chi lo afferma? Lo afferma in maniera interessata perché vuole che la riserva diventi nell'immaginario delle persone un fattore di rischio. Non è vero, ci sono proprio nel piano di assetto naturalistico le azioni previste, basta leggerselo e farle e soprattutto farle. Il laghetto è un pantano e poteva essere una riserva idrica per dire, anche antincendio. Non c'è nessuna azione sistematica. Alle 18 noi faremo questo presidio aperto veramente a tutti i cittadini che invitiamo, ai residenti, a questi volontari che veramente hanno fatto tanto, con mani nude si può dire, per difendere la difesa e la riserva. C'è da mettere in piedi una politica, un solo appello. Non facciamo delle azioni avventate, dobbiamo riflettere e fare un restauro a corto. La vegetazione mediterranea ha una capacità di autorigenerazione, quindi dobbiamo vedere alle prime piogge quali saranno gli alberi da abbattere, quali sono ancora vitali e poi che si ricorra ad un comitato scientifico per fare questo piano di restauro della pineta di livello nazionale. Noi abbiamo interpellato dei grandi esperti nazionali ed anche fuori d'Italia e nei prossimi giorni produrremo un documento scientifico su questo e speriamo che sia un contributo ascoltato perché è un contributo per la città. Grazie a tutti.